Giovanni tennista, Giovanni tennista, ma vattene a fare da qualche parte Vabbè, comunque, e ciao a tutti ragazzi, io sono Eletro16 E oggi siamo nel video più laggoso di sto mondo Perché tutti mi denunciate male perché i miei video laggano Ma non è assolutamente vero perché se io faccio schifo a fare gli SCP A quest'ora non dovrei avere 600 iscritti E mezzo, cioè 600 iscritti e 30 Comunque sia, Ticol è tornato al suo posto Dov'è Ticol? Eccolo! Ciao! Ciao! Intanto ho messo un tappeto arancione se lo vuole Poi qua ho messo anche il risma di carta L'SCP 001 Che ce ne ho L'ho sduplicato di nuovo Così c'è anche qua A portata di mano C'ho il risma di carta La mentale Che forse le tolgo Boh, raga, non so Comunque sia, oggi andiamo a vedere un altro SCP Non seguirmi, Ticol! Lo vedo Vabbè, raga, andiamo intanto Direi di correre verso la cella di oggi Che, ragazzi, è una che ve ne ho parlato molto spesso Intanto sento le regole umane C'è la cella del primo SCP di questo mondo Che era il coso elettrico Elettronico Il filo Il coso fatto di fil di ferro Che quando tocca l'elettricità si anima E fa cose Comunque sia, ragazzi La cella di oggi È una che, come ho già detto, ve ne ho parlato Un po' Da qua Allora, qua allaga un casino Mi butto! Porca di quella trova Brustolita Porca di quella Allora, ragazzi È un po' complicato il punto in cui si trova Perché, praticamente Aia! Un cuore Un cuore Un cuore Sono rischio morte Sono rischio morte Ok, vabbè Comunque sia Ragazzi, allora La cella è piuttosto complicata Ci sta questa collinetta Ok? Praticamente Più in avanti A questa collinetta Ci dovrebbe essere Un cuore Che, praticamente Dovrebbe avere Delle altre cose Cioè Ho spiegato malissimo il tutto Allora, più in avanti A questa cella A questa collinetta Ci deve essere La cella dell'SCP Che ora io non vedo Però ci dovrebbe essere Qui davanti Non la vedo Dove cacchio è? Adò cazzo Stai? Eh? Dov'è? Where is it? È questa? Fammi vedere Sì, è questa Allora, c'è la lava Il che non è per nulla buono Quindi, dato che noi siamo arguti E non vogliamo creparci male Scaviamo Ok, va bene per voi Se scavo Così ci facciamo anche Un po' di Blu Ok Grazie mille Sta pure piovendo Cos'è? Ho sentito Raga, ho sentito Una voce Che diceva tipo Tipo una cosa del genere Cos'è? Raga, comunque La sento di No, no, no C'è qualcosa che parla C'è qualcosa che parla Vabbè raga Forse l'SCP Scusate Fatemi alzare un attimo Il volume Ora non lo sento Ora non lo sento Comunque L'SCP di oggi È il 963 Però c'è Io ho sentito una voce No, lo No, no Adesso ha parlato Adesso ha parlato Raga Ha parlato Non so se l'avete sentito Però raga Cosa c'entra il 963 Cioè 963 È L'amuleto È un amuleto Cioè L'amuleto del dottor Bright È un dottor Allora praticamente È un amuleto Vabbè Intanto lui parla Cioè C'è qualcosa che parla Dico lui Inteso qualcosa Perché può essere qualcosa Raga C'è qualcosa che parla In stacera Io non voglio andare a vedere Prima vi spiego cos'è l'SCP 963 È un amuleto Che praticamente È l'amuleto Di un dottore della fondazione Che dovrebbe essere Jack Bright È uno dei dottori più famosi Della fondazione Questo Questo amuleto Praticamente Quando il dottor Bright Muore Lui può trasferire La sua anima A quello che indossa L'amuleto Quindi Se io indosso L'amuleto E il dottor Bright È morto Lui Può avere il controllo Del mio corpo Io posso perdere La mia anima E lui avrà il controllo Mio Cioè Non so se avete capito Quello Sta piovendo Ma tanto Vabbè C'è un dottore Della fondazione Ma No Ho spaccato Porca trota No Raga Non l'ho fatto apposta Vi giuro Raga Qua c'era l'amuleto Non c'è Raga Non c'è l'amuleto Mi prendi in giro E c'è lui Questo qua è Jack Bright Il dottor Bright Che è quello che porta SCP-963 Raga Dobbiamo entrare Nella sua cella Senza evitare Che lui esca Non uscire Non uscire Non uscire Non uscire Non uscire Assolutamente Ti prego non uscire Ok grazie La ringrazio Dottor Jack Bright Allora lui Vedi Analizziamolo Non pare aggressivo Il che è buono Vabbè Allora lui parla Ha un leccarecca Aveva un leccarecca L'amuleto Ha addosso l'amuleto No raga Non so Vedi Dottor Bright Dottor Bright Si gira un attimo Allora c'ha una minigun Però vabbè Raga vedete questo Quello è l'amuleto Ha indosso l'amuleto Lui mangia un leccarecca Boh Lui è pazzo C'ha degli occhiali Delle cose E lui parla Ha nominato SCP-682 Boh Raga Dice frasi Tanto la sopra piove Balla Fa cose Fa animazione Ora raga Proviamo ad attaccarlo Va bene Va bene Raga se lo proviamo ad attaccare Lui Balla Se io lo provoco Porca di Porca di quella Putrettola Raga Dottor Bright Raga sono morto Vedete Dottor Bright Ha ucciso Eletro Toglie metà vita Raga Dobbiamo Vedere cosa succede Se lo uccido Aspettate un attimo Ok raga Sono tornato Adesso Dobbiamo fare un altro esperimento Cioè dobbiamo provare A uccidere Jack Bright Raga Il dottore Della fondazione Più famoso Degli Il dottore più famoso Di tutta la fondazione SCP Deve morire Usiamo la telekill Dai Dato che Funziona prima Dottor Bright Io ti chiedo Scusa in anticipo Non mi Sfracanare Di mazzate Ti prego Ti chiedo Scusa in anticipo Ma io Devo vedere Cosa fai Perché hai Il tuo medaglione Quindi credo Tu possa Ritornare In vita Vabbè raga Vediamo Mettiti qua Ok andiamo SCP Raga Questo è l'amuleto Questo è SCP 9x3 Non lo posso muovere Mi sbaglio Raga sta Sta facendo Particelle E mo Ha 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 parlato Jack Bright Ma No 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 Tu da dove sei arrivato Tu cosa dove Allora Fammi capire Tu Puoi Quando muore Diventa SCP 9x3 Che lo posso colpire E lui Ritorna Raga No è tutta Una figata Perché con Non lo posso colpire Con la telekill Raga Eh raga Noi guardiamo qua Visto Boh Allora Meno male Che non si è Teletrasportato Lontano Ed era qui Però Raga è figo Sta cosa E te Vorrei colpirlo Con la telekill Però non me lo fa colpire Raga Carino Questo SCP Poi Peraltro Raga Una coincidenza Che nello scorso episodio Abbiamo visto Il 953 Cioè L'umanoide Poliformico E oggi Il 963 Che fa La mu No Mi sta preoccupando Ah Eccolo Mi sto Mi sto preoccupando Stavo dicendo Non Non spona più No Ok Raga Direi di fermarci qua Con gli esperimenti Lui Dov'è Dottore Dottor Bright Allora Adesso ti porterò Al mio laboratorio Spero faccia il bravo Lui Raga Dice cose Non può Purtroppo Spero che non Apre le porte No 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 Raga 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 Cioè Raga Questo qua Parla Ha detto tipo Frasi tipo 682 Deve morire Neutralizzare 682 Io vado Nella sua cella Cioè Lui spawna Nella sua cella Guardiamo Deve spawnare Ma forse io raga ho capito Perché Quando muore Spawna Nella sua cella Io forse ho capito Perché Raga Non c'è molto spazio Cioè Non c'è una Una caverna Quindi non si può Te le trasportare Fuori Dalla sua cella Vabbè raga Ehm Bas così Abbiamo finito L'SCP Questo era L'SCP 963 Spero che vi sia piaciuto Adesso dovrò Portare al laboratorio Ma intanto Mi faccio una scaletta Perché dovrei Tornare A casetta Quindi Spero che il video Come sempre Vi si piaciuto E sia stato Di vostro gradimento Lasciate un bel mi piace Se è stato di vostro gradimento E il dottore della fondazione Tanto tranquilli Dopo lo vado a catturare Catturiamo il dottor Bright Meglio così E Saga Purtroppo Non lo posso uccidere Perché come avete ben visto Quando muore Rinasce Quindi Niente Non è che Abbiamo visto Quello che fa Da me Elettro 16 E tutto Adesso Ciao Non si chiude La registrazione Sono scemo Io che non ho cliccato Vabbè raga Ciao